C'è una guerra nella guerra che fa meno rumore e meno clamore, ma che produce danni a volte irreparabili e altre volte solo disservizi. E' la guerra combattuta a colpi di pirateria informatica che, nell'era in cui i dati e informazioni viaggiano sulle invisibili autostrade di internet, è un po' come bombardare infrastrutture viarie reali. E' quel che è accaduto anche ieri quando Killnet, un collettivo filo russo militante che secondo gli esperti è legato alle Forze Armate della Federazione, ha rivendicato sui suoi canali Telegram l'attacco hacker ad alcuni siti italiani. Senato, Difesa e una serie di pagine web di istituzioni e aziende che sono state prese di mira tramite DDoS, un metodo secondo cui un sito viene inondato da migliaia di richieste di accesso che lo mandano in tilt, rendendolo irraggiungibile e dunque bloccandone il funzionamento, senza però produrre danni ma solo disservizi. A finire nel mirino di Killnet non sarebbe stata solo l'Italia, ma anche la Germania e la Polonia. E se l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è già al lavoro per ripristinare i siti hackerati, a preoccupare in questione è l'annuncio di un'ulteriore minaccia diretta all'Italia, che questa volta coinvolgerebbe anche la Spagna, e che avverrebbe attraverso una rete di computer compromessi che potrebbero essere utilizzati per i prossimi attacchi. Antonio Teti, responsabile del settore servizi informativi e di innovazione tecnologica, e anche docente di Cyber Security presso l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Questo attacco hacker che c'è stato ieri da parte di Killnet anche all'Italia era una cosa prevedibile? Sì, era un attacco atteso in funzione del fatto che questa struttura, questa organizzazione composta da hackers e collegata chiaramente al governo di Mosca, nota come Killnet, si stava già organizzando per condurre una serie di attacchi a livello europeo. Si possono prevedere anche altri attacchi di questo tipo? Come ci si può difendere? Gli attacchi cibernetici vengono condotti quotidianamente. Naturalmente nel caso del conflitto russo-ucraino abbiamo assistito soprattutto nelle ultime settimane ad un incremento di questi attacchi. Adesso assisteremo a una impennata in funzione del fatto che lo stesso governo di Mosca si aspettava di concludere questo intervento nel giro di qualche settimana. Probabilmente adesso stanno cominciando a pensare di allargare il conflitto non solo sul piano squisitamente tradizionale ma anche su quello del conflitto cibernetico. Come difendersi? La difesa è una cultura che deve essere perseguita soprattutto a livello della pubblica amministrazione ma anche delle aziende. Deve basarsi sulla ricerca di vulnerabilità dei propri sistemi. Per vulnerabilità intendiamo sistemi operativi non aggiornati, applicazioni che presentano dei difetti particolari o anche piattaforme hardware che possono presentare delle deficienze da un punto di vista di funzionalità. Quindi bisogna lavorare sul piano della sicurezza costantemente. Cosa rischiamo in caso di attacco totale? L'attacco totale sul piano cibernetico è un attacco che prevede il blocco dei sistemi e delle infrastrutture critiche. Parliamo di servizi di fornitura di energia elettrica, telecomunicazioni che chiaramente consentono a una nazione di poter vivere e lavorare quotidianamente. Un attacco su larga scala su queste infrastrutture critiche provocherebbe certamente il blocco dei sistemi e quindi una sorta di paralisi dell'intero sistema paese. E quindi questo chiaramente è un qualcosa su cui bisogna lavorare e noi siamo ancora un pochino in ritardo in Italia per cui dobbiamo accelerare per recuperare il tempo che non abbiamo impiegato per garantirci questi livelli di sicurezza.